Un museo dove raccogliere le tipicità del territorio e valorizzarle. Nasce con questo obiettivo il Museo dei Gusti, presentato dall'assessore allo sviluppo territoriale della provincia di Pescara, Angelo Dottavio. Il programma, spiega e complesso, richiede un gioco di squadra, composta in questa fase da un rappresentante ciascuno di provincia, regione, fondazioni, museo genti d'Abruzzo, GAL, terre pescaresi, associazione italiana sommelier, slow food, movimento turismo del vino, restipica, dopo pruttino pescarese. Il museo sarà realizzato all'interno del Museo del Gentile d'Abruzzo. C'è un luogo fisico nel quale sarà possibile visitare e degustare i prodotti tipici della provincia di Pescara, dell'enogastronomia e dell'artigianato. Ma il progetto non si limita solo a questa realizzazione nel comune di Pescara, ma punta anche a realizzare la stessa attività in provincia. Quindi nei singoli comuni che hanno dei musei e che possono ospitare questi luoghi sarà replicato questo modello.